SONIDI 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 Noi vorremmo andare a questo matrimonio Infatti Perché non in Italia? Perché in Italia non si possono sposare due donne insieme. Perché? Mamma! Sì! Siamo in Svezia. Questa è la mia sera? Due. Quando ero piccolina non mi sarei mai immaginata di sposarmi, ma non lo so se non me lo sono immaginato perché non era possibile. Quando Ingrid mi diceva che voleva sposarsi, che per lei era una cosa importante, era un passo importante, io mi irrigidivo perché da una parte non vedevo l'utilità di un gesto di questo tipo. Non ci sono aspettative per una persona omosessuale in un paese che non riconosce niente per gli omosessuali. Non ci sono matrimoni, non ci sono adozioni. Non c'è la possibilità di immaginarsi un futuro insieme a un'altra persona. Signori e signori, per cortesia ho bisogno della vostra attenzione. Un momentino. Per tutti coloro che sono d'accordo del matrimonio, lei disse sì, alzino la mano. Facciamo due bouquet. Un, due, due, tre! Sampbate! 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 Grazie per la visione